Siamo con Roberto De Angelis. Roberto, al primo tempo molto equilibrato, anche molto bello, tutte e due le squadre andavano in pressione, al secondo tempo poi voi avete segnato subito il gol, bisogna dire che però loro una volta rimasti in 7 per l'espulsione ci hanno provato ma in realtà poi De Angelis ha dimostrato di sapere anche controllare la partita. Sì, stasera intanto faccio i complimenti, loro hanno un bel gruppo, una buona squadra, secondo me, sapranno dire la loro, noi stasera abbiamo un Manuel Buoncompagno in grande forma, senza nulla togliere tutti i ragazzi che stavano qua stasera, abbiamo parlato prima della partita, ho chiesto un buon riscaldamento, massima concentrazione solo alla nostra partita, di non parlare di Roma, Lazio e compagnia bella, e poi parlare di Lazio non è una buona cosa. L'ultima cosa, abbiamo visto che molti giocatori, da esempio Imiti, hanno giocato in avanti in alcune partite, oggi ha giocato dietro, Aversani ha cominciato avanti, poi ha giocato dietro, è una po' la vostra caratteristica. Oggi Imiti ha giocato il suo ruolo, quello è il suo ruolo, Giacenti è il centrocampista naturale, abbiamo rimesso un pochino ai loro ruoli, visto che oggi avevamo la punta, Manuel Buoncompagno, insomma, una punta di peso, forse secondo me è una delle punte più forti del Lazio, senza nulla togliere agli altri, però... Io quei ragazzi lo stimo in modo particolare, come stimo tutti i ragazzi che sono nel mio gruppo, tutti e trenta, uno secondo me li stimo tutti e li voglio a tutti bene, questo lo esprimo proprio. Al di là di tutto, la nostra è una squadra, una famiglia allargata, io a loro veramente ci tengo tanto. Il D'Angeli si stava avanti così, quest'anno ho detto abbiamo una testa diversa e abbiamo anche un bel gioco, forse non so se ve ne siete accorti, ma pratichiamo un bel calcio e poi alla fine i conti tornano. Grazie e complimenti. A voi ragazzi.